Il pluri pregiudicato quarantenne Francesco Ferrante, originario di Trani, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco nei pressi della zona di Sant'Agostino. Dall'elevato sangue perso sembra che l'uomo sia stato colpito con un fucile. Sul posto, polizia, carabinieri e 118, che, dai bossoli ritrovati per terra, ipotizzano che ad agire siano stati in due. Conosciuto come Geppetto, Ferrante fu arrestato una prima volta nel 2000 con l'accusa di tentato omicidio, minacce e danneggiamento per un assalto con una motosega in un locale notturno. Rimesso in libertà nel 2006, tentò di dar fuoco ad un marocchino senza fissa dimora. Sarebbero Francesco Antonino, cerignolano di 33 anni e Gaillet Suye, tunisino di 27, gli autori delle tre rapine a mano armata avvenute lo scorso luglio a Canosa di Puglia, Manfredonia e Foggia, presso differenti aree di servizio. Secondo la tesi, i rapinatori giungevano a fortissima velocità presso il distributore di carburante a bordo di una lancia station wagon, scendevano, giarmati con fucile a canna mozza, e facevano irruzione all'interno dei locali. Sotto minaccia delle armi, rubavano di volta in volta diverse migliaia di euro in contanti, tabacchi e quanto altro potevano, per poi risalire a bordo dell'autovettura e darsi alla fuga. I due dovranno rispondere di concorso e rapina, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Scampato un danno di migliaia di euro per Enel Energia, grazie all'arresto di un uomo brindisino di 75 anni e suo figlio di 47. I due, da quanto emersero in un sopralluogo effettuato dai carabinieri, avevano allacciato la propria abitazione alla rete elettrica, servendo studio in cavo utilizzato come bypass. Pericolo scampato dunque, anche se non c'è poi da stare così tranquilli, visto che malviventi, dopo l'arresto e le formalità di rito, sono state rimessi in libertà. Un quarantenne incensurato, originario di Gruma Pula, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza privata aggravata e continuata, ai danni di una donna barese, con la quale aveva avuto una relazione extraconiugale, poi interrottasi. La donna aveva denunciato lo stalker che la molestava tempestando le dichiamate e la minacciava di divulgare via internet alcune fotografie che la ritraevano in suo possesso. La vittima ha così teso un tranello al suo molestatore, lo ha convinto ad incontrarle in un appuntamento per chiarire la situazione. All'incontro si sono poi presentati i poliziotti, che hanno arrestato l'uomo che si trovò ora ai domiciliari. La chiamano la Banda del Buco, il gruppo di ladri responsabile di alcuni furti avvenuti nel Tarantino ai danni di diversi esercizi commerciali. L'ultimo colpo è avvenuto in località Torreovo, dove la scorsa notte i malviventi, praticando un foro nel muro di un'abitazione estiva, situata a fianco ad un bar tabacchi, si sono introdotti nel locale ed hanno portato via sigarette e grattevinci in quantità imprecisata. Appena il titolare del bar ha dato l'allarme, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torricella. Gli inquirenti stanno, in queste ore, lavorando per identificare gli autori del maxifurto.